Carissimi amici siamo tornati qui in questa bellissima spiaggia, ormai lo sapete dal nulla si può creare tutto, basta farlo con amore e sono qui con la nostra Deborah, la nostra cara amica, ormai è diventata un'amica dell'associazione insieme a te, Deborah Donati. Ciao Deborah. Ciao a tutti. Allora, abbiamo parlato un po' di come è nata l'associazione, adesso direi come funziona questa associazione meravigliosa. Allora, l'associazione comunque è gestita al 100% da volontari, quindi volontari che comunque vengono qui nel loro tempo libero e quindi noi prendiamo ore, minuti, giorni e mesi di tutti questi volontari perché comunque sono la nostra forza. L'anno scorso, è stato il secondo anno, abbiamo comunque registrato in due mesi 370 volontari e quindi questo è un numero secondo noi molto importante e fa sì che comunque questa, io dico sempre un po' il motore di questa macchina, anche perché comunque all'interno di questa spiaggia ci sono proprio gruppi di ragazzi che fanno proprio campi di servizio e questo è un altro tipo di progetto all'interno della spiaggia perché comunque avvicinare più persone comunque a queste disabilità qui per noi è importante. Quindi ogni settimana ci sarà un gruppo anche quest'anno che può venire da una parrocchia, può venire da una scuola e sarà presente con noi una settimana, quindi anche c'è una continuità e questo per noi è importante, la continuità perché comunque fare continuità con volontari è difficile e noi ancora insomma ce la stiamo facendo anche perché abbiamo tantissime richieste, davvero noi a un mese e mezzo che abbiamo aperto le prenotazioni siamo già più di 80 ospiti, quindi siamo già al doppio dell'anno scorso come prenotazioni e dobbiamo ancora arrivare a giugno. Allora visto che parliamo di un discorso interessante che sicuramente i nostri amici a casa stanno prendendo appunti perché purtroppo ahimè queste disabilità accadono nelle famiglie di tutti, come si fa se uno vuole venire sia per prenotare come ospite ma magari chissà quanti ragazzi hanno piacere di fare volontariato, le parrocchie, le associazioni, i centri, i giovanili, come fanno se vogliono venire e fare una settimana, un campo scuola qui, un campo scuola al mare è una cosa carina, poi intanto si fa del bene, no? Sì esatto, per i campi di servizio basta comunque contattare l'associazione, funziona la settimana, va da domenica a domenica per i campi di servizio con i ragazzi, ovviamente faremo a loro comunque corsi di formazione per comunque gestire le sedie e quelle che vanno in acqua, il ragazzino deve comunque semplicemente imparare a usare il sollevatore, deve comunque imparare a gestire le sedie per andare in acqua, deve imparare a capire la persona che ha di fronte, quindi capirle su problematiche ma di fatto, io dico sempre, la responsabilità maggiore rimane comunque ai familiari, noi siamo semplicemente lì in supporto a loro per accompagnarli a fare una vacanza bella, a fare un bagno, a stare sotto un gazebo a leggere un libro con loro, a giocare a carte, c'è molto sotto quei gazebi, forse alla fine, io dico sempre i bagni in mare, forse alla fine è la meno, ma c'è congregazione, c'è condivisione, poi i volontari anche durante l'inverno comunque continuano a vedersi con i nostri ospiti, c'è continuità anche in questo, la cosa bella che dico sempre io è che a un certo punto la disabilità non si vede più, perché c'è un po' tutto questo misto di cose belle lì dentro, quindi basta semplicemente chiamare l'associazione insieme a te, ci sono proprio ragazzi che gestiscono le pronunciazioni dei volontari e dopodiché vengono inseriti settimana per settimana. Perfetto, allora ragazzi mi raccomando cercate su internet il nome dell'associazione, che è www.insiemeate.org Avete anche una pagina Facebook, immagino dove possono controllare. Esatto, un po' lì, ecco quella è aggiornata quotidianamente, un po' per le cose che noi facciamo. E quindi vi possono seguire per partecipare quest'estate. O soltanto, se magari prima volete venire a vedere, sincerarvi, perché magari non tutti pensano di avere questa possibilità, alle volte uno dice, ma forse io non riesco a dare un servizio di questo genere. Non servono competenze. Esatto. Assolutamente, la nostra è una prova, è una scommessa che noi facciamo. Nel senso che noi abbiamo anche infermieri, abbiamo anche ossa, abbiamo anche medici all'interno della spiaggia come volontari, ma la nostra più grande scommessa è riuscire comunque a avvicinare più persone possibile, usando buon senso ovviamente sempre, però a questa realtà qui. Ovvio, chi lo fa già di mestiere, di lavoro, è più facile, ha più dimestichezza, è più facile. Ma avvicinare comunque persone che in realtà non la vivono mai, questa situazione qui, per noi è un traguardo in più. Io con mio marito, a casa mia, io dico sempre, avevo un muratore, avevo un cuoco e avevo un coltivatore diretto che faceva un'assistenza insieme a me. Quindi, voglio dire, tutto può essere possibile, basta fatta col buon senso, sicuramente, ma fatta anche col cuore. Col cuore, perfetto. Allora, io ringrazio davvero Deborah di essere stata con noi anche oggi, ma sarà ancora con noi per raccortarci ancora pillole di questa bellissima associazione insieme a te. Quindi io vi invito, voi scuole, a iscrivervi a questo grande progetto che è Enerjoy, io ballo per te, perché quest'anno devolveremo appunto assieme a te. Ma non è soltanto una questione di denaro, forse la banca più importante è quella del tempo, per cui se avete un po' di tempo da dedicare insieme a te, che è preziosissimo, venite e ripeto, senza prendervi magari subito la responsabilità di dire, ci sto una settimana, venite a fare una passeggiata quest'estate, siamo a Punta Marina Terme e in questo bellissimo spazio vuoto, perché adesso in realtà è vuoto, ma che ovviamente volontari poi allestiranno, verrà creato proprio una serie di gazebi in legno bianco, quindi sono bellissimi, coloratissimi, e lì poi dopo potrete venire a respirare quest'aria così strana. Magari vi innamorate come ho fatto io l'anno scorso e magari poi venite una settimana. Deborah, grazie. Grazie a voi tutti. Al prossimo appuntamento. Grazie. Ciao. Ciao.